alla sterato mugello vi proponiamo fiat 500 1200 allestimento lounge febbraio 2015 vettura chilometri zero clima telecomando auto radio cerchi in lega comandi al volante bluetooth e tetto fisso in cristallo per questa bellissima fiat 500 lounge di febbraio del 2012 la trovate chilometri zero alla sterato mugello come vi dicevo comandi al volante bluetooth auto radio lettore cd mp3 clima vettura dotata di sp asr sistema di ripartenza in salita chiavetta usb e uscita aux vettura con zero chilometri di febbraio del 2015 tetto panoramico si può anche aprire se uno vuole prendere il sole ecco qua fiat 500 1200 lounge di febbraio del 2015 con bollo pagato fino alla fine del 2015 la trovate alla stilato mugello a borgo san lorenzo